Siamo in presenza di una tipica configurazione dell'Associazione per delinquere ordinaria non mafiosa in cui c'è una precisa ripartizione di compiti. Troviamo il basista che individua i carichi interessanti da rubare poi i gruppi operativi che provvedono ai furti o alle rapine anche con modalità violente che si può rubare con modalità particolarmente invasive e tutto il resto dell'organizzazione che poi provvede a collocare questa merce. Un'organizzazione particolarmente pericolosa soprattutto nel contesto economico di Palermo che come sappiamo è connotato da un sistema asfittico in cui gli investimenti esterni sarebbero altamente desiderabili ma è chiaro che un quadro di insicurezza scoraggia questi investimenti. Poi il porto per Palermo che dovrebbe essere una città proiettata sul mare è un elemento essenziale dell'economia, è un volano forte dell'economia e la sicurezza all'interno delle zone portuali è un problema serio. Per questo questa operazione condotta dalla Guardia di Finanza con lunghe indagini estremamente impegnative e complesse credo che sia orientata e proiettata anche a dare alla città qualcosa in più sul piano della sicurezza e dell'ordine pubblico e quindi indirettamente anche un aiuto al sistema economico che ne ha certamente bisogno. E l'ennesima inchiesta che riguarda reati che si svolgono nell'area portuale c'è una zona di questa città che è più permeabile di altre rispetto a queste cose? Ma questa, come dire, una classifica di permeabilità a Palermo è un po' difficile stilarla Palermo sorprende che ci possano essere delle zone indenni al contagio mafioso e anche all'attività della criminalità organizzata, purtroppo è così. Il porto per sua natura è purtroppo un luogo elettivo di un determinato tipo di illeciti perché il controllo delle attività portuali è un elemento essenziale per qualunque organizzazione che voglia indirettamente controllare l'economia richiamiamo alla mente la vicenda della società Newport, della cooperativa prima e società poi Newport che è stata sottoposta ad amministrazione controllata da parte del Tribunale misure di prevenzione proprio per la presenza inquietante per la infiltrazione da parte della criminalità mafiosa e altri esempi si potrebbero fare ma in generale il porto mi sembra tutt'altro che una zona indenne su cui forse converrà in futuro investire anche maggiori energie investigative.